Cura Italia, commissari per ospedale e stop pagamenti tasse. L'emergenza coronavirus sta ancora flagellando il Paese, dovremo dunque gettare le basi per convivere con il virus, ripensando ad una riorganizzazione della sanità e per aiutare le imprese a sopravvivere e rilanciarsi nei prossimi mesi. Per questo ho presentato due emendamenti al decreto Cura Italia. Stefania Prestigiacomo, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio di Montecitorio, chiede la nomina di commissari straordinari in accordo tra governo e governatori per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri su tutto il territorio nazionale, con un occhio di riguardo alle regioni del sud e alla città di Siracusa in particolare. La nomina di commissari consentirebbe di velocizzare, specie dopo l'emergenza Covid, che ha messo a luce diverse problematiche, l'iter per la realizzazione di nuove stradali, opere che andrebbero portate a termine in pochi mesi, seguendo la logica emergenziale usata per il ponte Morandi a Genova. Il secondo emendamento riguarda invece la sospensione dei pagamenti di tutte le tasse di tutti i versamenti verso la pubblica amministrazione, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti, se la maggioranza accoglierà questa mia proposta, resteranno sospesi per 18 mesi dalla fine dell'emergenza coronavirus e potranno poi essere pagati in unica soluzione o fino a un massimo di 36 rate mensili. Questo per consentire a tutte le aziende, grandi e piccole, ai professionisti, alle partite IVA, di avere un periodo per recuperare il giro d'affari e liquidità dopo il fermo del lockdown e avere quindi le risorse per pagare le imposte e i contributi, ha concluso l'onorevole Stefania Prestigiacomo.